situazione naviglio della martesana è messa molto male è messa veramente molto male una bella esondazione questo è come siamo conciati è veramente messa molto 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 male e il naviglio sta esondando e è veramente straccarico hanno chiuso le strade guardate che roba guardate il livello del naviglio della martesana com'è è impressionante eccolo qua ha tracimato anche dalla parte come potete vedere potenza dell'acqua enorme qua sta uscendo qua sta uscendo questo è il martesana mi sposto adesso da qua questa è la parte inerente a bellinzago ed è veramente impressionante questa è la massa d'acqua che sta arrivando il peggio deve ancora arrivare perché da quello che si vede sta montando molto e dovrebbe esondare anche da questa parte di qua io tra un po' mi levo dalle scatole perché tra un po' arriva anche da questa parte ecco com'è il naviglio sempre quindi anche qui ecco 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 ecco